Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eravamo anche dei precursori, adesso le cose che dicevamo 16 anni fa le dice anche l'ONU, la FAO, alcune delle cose che dicevamo 16 anni fa le dice anche l'ONU e la FAO. Qui ci sono i miei riferimenti per chi volesse contattarmi, di sicuro c'è la mail e poi naturalmente anche il numero di cellulare non è un problema. C'è il sito LAV, dell'Associazione Veterinari per i diritti degli animali e l'altro è il sito dove ci sono temi sia di animali, sociali e ambientali. Quando si parla di qualsiasi argomento si parla, la lingua italiana è molto ricca e io questa diapositiva qui lo metto perché quando mi trovo a parlare con colleghi veterinari, i veterinari pubblici hanno molto l'impostazione sulla sicurezza alimentare. Io gli dico sempre, però ricordatevi che cos'è la sicurezza alimentare perché la sicurezza alimentare come ne intendiamo noi, come sicurezza di mangiare dei cibi che siano sani riguarda una piccolissima parte della popolazione mondiale perché la più gran parte della popolazione mondiale è la sicurezza alimentare e poter mangiare qualcosa. Io dico anche due cose ancora recentissime che adesso non mi ricordo il nome di chi, comunque poco tempo fa uno dei grandi esponenti della finanza internazionale ha detto facciamo attenzione che con la crisi mondiale che sta imperversando, mi sembra un dato oggettivo, il problema della fame e della sicurezza alimentare diventerà uno dei problemi importanti. Io dico anche che noi, anche in Italia, quando io vedo, ahimè, le tante persone che vanno a cercare nei cassonetti dell'immondizia, io sto pensando, penso che per quelle persone lì il problema della sicurezza alimentare non sia la sicurezza di cosa mangiano, ma sia avere qualcosa da mangiare. Come sono nati gli allevamenti intensivi? Gli allevamenti intensivi sono nati circa a metà dell'altro secolo ormai, fa un po' effetto dirlo, e sono nati praticamente, diciamo, il movente che ha determinato la nascita degli allevamenti intensivi è stato l'antibiotico, perché se chi fa mente storica l'antibiotico è nato più o meno verso gli anni 40 e come sempre tutte le produzioni tecnologiche l'interesse di chi li produceva era quello di fabbricarne tanti e di venderne tanti. E si sono immediatamente allargati agli animali e allargando gli animali è stato possibile fare quello che prima non era possibile fare, ovvero concentrare insieme tanti animali in condizioni di vita non ideali, però controllare comunque le malattie e quindi ottenere lo stesso una redditività. L'altro giorno parlavo con dei colleghi e si ricordava un po' quando ero piccolo andavo nella piccola azienda dove era andata mia madre e lì c'erano 10 bovini e si ingrassava un bovino all'anno e quando questo bovino era vicino all'essere venduto era tutta la famiglia che era in ansia con la paura che questo animale gli succedesse qualcosa perché era una fonte di reddito che veniva meno. Adesso quando io ho iniziato a lavorare negli anni 70 le aziende di 50 capi erano grandi, adesso le aziende di più di 100 capi vengono vendute chiave in mano ad altri proprietari di aziende ancora più grosse, solo l'altro giorno è successo, io lavoro in un'asle del Pinerolese e come dimensioni zooteniche è la terza asle del Piemonte, quindi è un'asle grande e anche noi vediamo questo fenomeno per cui le stalle diventano sempre più grandi e chi ha dei problemi sono le stalle più piccole. Negli elementi intensivi più o meno aveva il 74% del pollame del mondo, il 50% dei suini, il 43% dei bovini e il 68% delle galline o vaiole questo dato qui lo presento sempre con un po' di curiosità perché questo dato è un calcolo che io avevo fatto diciamo una stima mia e che ho presentato a una conferenza di questo genere a Firenze, però se andate a vedere, potete anche non credere alle mie parole però di solito sono sincero e se andate a vedere sulla pubblicazione State of the World del 2006, la giornalista Daniel Nirenberg li cita lei così come sono quindi non so se ho indovinato se lei me li ha copiati o se abbiamo fatto lo stesso percorso di ricerca. Quando noi si parla di allevamenti intensivi dobbiamo sempre considerare questi dati qua. Allora noi in questo momento questi sono i consumi di carne sempre dallo State of the World certificati nel 2008. Nel mondo si mangiano 280 milioni di tonnellate di carne, la carne più mangiata è quella di maiale e considerate che il maiale c'è un miliardo circa e forse qualcosa in più di persone che ufficialmente non dovrebbe mangiarlo, il pollame 93 milioni, il manzo quindi i bovini che sono quelli che hanno un grandissimo impatto sul terreno, come consumo eccetera, sono quelli che poi rappresentano una parte più piccola di consumo proprio perché il bovino si riproduce lentamente eccetera. Le altre carni 21 milioni, le uova rappresentano ben 59 milioni di tonnellate all'anno e anche molto significativo è il consumo di pesce, 157 milioni di tonnellate, quindi il pesce in assoluto è la proteina animale che si mangia di più. L'altro dato che non si parla quasi mai di pesce è che quasi la metà arriva dall'allevamento, l'altro dato ancora più preoccupante è che l'80% degli stocchittici è esaurito e poi i pescatori vanno a protestare dicendo che devono lavorare, però quando gli stocchitti si saranno esauriti o riusciremo a fare i pesci di plastica o non si sa più cosa fare. Abbiamo detto il malessere degli animali, il malessere degli animali è fondamentalmente, le foto che vedrete sono tutte foto fatte da me negli allevamenti del Piemonte, però la situazione in tutto il nord Italia è simile e perché? Allora facciamola anche la premessa, tutte le cose che vediamo sono tutte cose permesse, perché? Perché il sistema legislativo che peraltro è molto migliorato, dagli anni 80 in poi sulla spinta della scelta dell'Unione Europea si parla di leggi che parla di benessere animale. Perché benessere animale? Perché però il concetto di base è un concetto che si può definire welfareista, nel senso che le leggi prevedono dei livelli o massimi o minimi, secondo come si vuole considerare la cosa, rispetto ai bisogni degli animali, ma rispetto all'interesse degli umani che con quegli animali lavorano e ne ricavano un guadagno. Voglio dire che il benessere degli animali in assoluto sarebbe rispetto dell'etologia e rispetto dell'etologia sarebbe poter avere gli spazi che in natura erano abituati ad avere, avere dei rapporti inter specie specifici naturali, pensate solo ad un esempio semplicissimo, la ricerca del cibo nell'ambito naturale rappresenta per gli animali un momento di socializzazione, di crescita, di sviluppo dell'intelligenza perché deve conoscere e esplorare il territorio, conosce e si incontra sia con esseri della propria specie sia con esseri delle altre specie, quindi il mangiare per gli animali è un'attività molto complessa, questo negli allevamenti non si verifica certamente e sicuramente. Quindi le condizioni sono già migliorate ma naturalmente la necessità di produrre quelle quantità di carne che abbiamo visto rendono inevitabile concentrare gli animali e concentrandoli bisogna privarli di molte dei loro bisogni naturali. Questi sono suini, a sinistra c'è una scrofa che è appena partorito, le gabbie delle scrofe sono fatte in maniera tale che gli animali possono fare pochissimi movimenti perché in uno spazio ristretto quando la scrofa è sicorica pesterebbe, ucciderebbe i maialetti, invece se la scrofa ha un posto assai limitato per coricarsi, nelle manovre che fa per coricarsi che naturalmente non sono rapidissime, i suinetti hanno tempo a scansarsi. Queste sono di nuovo una gabbia per il parto e per lo svezzamento dei maialetti e a sinistra invece una gabbia di gravidanza perché siccome nei box gli animali potrebbero urtarsi e allora nei primi periodi dopo la fecondazione si potrebbe avere degli aborti e allora le scrofe vengono appunto tenute in gabbie singole. Questi invece sono dei maschi dove da ingrasse e quindi la quantità e il numero degli animali viene ammassata perché il discorso è sempre lo solito, se io ho una struttura più animali ci metto dentro e più guadagno. Questo è un vitello, questo movimento che fa con la lingua è chiaramente un segno, è un tic ed è un segno stereotipato e sono quei comportamenti che gli animali fanno perché questi sono i vitelli a carne bianca, adesso non si allevano più in queste gabbie così strette ma adesso ci sono box nei quali ogni vitello ha a disposizione un metro e mezzo e almeno ha la possibilità di coricarsi allungando le gambe che è un'esigenza fondamentale in tutti gli animali anche nei cavalli e non è costretto invece a dormire con le gambe tenute strette però in questi allevamenti in ogni caso, questo è il motivo del tic che ha questo vitello come hanno altri, un vitello quando succhia il latte dalla madre ha 7, 8, 10 suzioni di latte in un giorno molto brevi anche ma diciamo ripetute quindi soddisfa anche il senso del succhiare e invece negli allevamenti hanno in un minuto o due per due volte al giorno bevono il latte che viene dato come alimentazione perché hanno fame quindi bevono molto in fretta però gli rimane questo senso di bisogno, lo vedete anche tante volte nei gattini o nei cagnetti troppo presto svezzati si portano dietro questo vizio di succhiare che sono la lana proprio perché sono stati svezzati troppo presto e non hanno potuto soddisfare il bisogno, il desiderio di suczione e il bisogno di suczione che hanno tutti i neonati. Questo è un esempio diciamo proprio aberrante questi sono sempre vitelli a carne bianca che in più o meno ti chiamiamo sanato in altre parti d'Italia chiamano vitella, questi animali arrivavano in 6 mesi a circa 300 kg di peso e avevano le gambe legate perché siccome stanno come avete visto prima per 6 mesi praticamente immobilizzati c'era il rischio che camminando cadessero, si spaccassero il femore e che quindi la coscia che è la parte più pregiata per essere venduta si rovinasse. In questo caso c'era anche il taglio della coda che è successo molti anni fa, questo fatto mi era stato segnalato da dei colleghi al macello e non erano allevati nella nostra ASL, però qui l'ho detto ad un mio amico e tramite guardie zoofile era stato poi diciamo fatta una verifica nell'allevento da cui venivano e l'allevatore è multato poco ma poi questa pratica era stata smessa perché la coda veniva tagliata applicando degli anelli di plastica durissima che impedivano la circolazione del sangue e la coda cadeva per necrosi e pratica non permessa ma questo veniva fatto, la cosa incredibile è che veniva fatto per risparmiare le spese del mantenimento perché gli animali erano allevati su queste griglie che distano per terra circa 50 centimetri non si vede sotto il pavimento, questo è un grigliato e siccome le poste, così si chiamano, sono corte i vitelli e siccome non si fanno le pulizie perché costa avere il personale eccetera i vitelli quando si coricano lasciano cadere la coda nel rigagnolo che c'è dentro dove ci sono feci e orina e siccome in questi posti le mosche sono le resine i vitelli per allontanarsi le mosche agitano la coda e si sporcano a volte quando sono più grandi anche qui, allora cosa succede? che quando devono dare il macello bisognerebbe lavarli, toilettarli però anche lì un lavoro in più che costa, allora il sistema che era stato trovato era quello di tagliare la coda così non si faceva questo lavoro adesso le mucche da latte sovente sono allevate all'aperto però i problemi quali possono essere? come in questo caso che l'animale può sempre per motivi di economia gestionale non ci sono le pulizie quindi l'animale permane in queste condizioni questi vitelli all'ingrasso anche loro le condizioni sono questi sono vitelli francesi, erano arrivati da neanche una settimana in Francia i vitelli vengono lasciati liberi nei pascoli poi vengono rinchiusi e portati e messi nei box dove in Italia dove vengono ingrassati i polli anche loro, il concetto questi sono polli da ingrasso in una capannone, ce ne stanno circa 25 mila vengono immessi nel capannone quando sono piccoli su un pulcini e non vengono tolti finché non sono all'età dal macello dai 40 ai 45 giorni secondo il sistema di ingrasso che c'è nell'azienda questi qui vedete i polli li conoscete da carne perché hanno la piuma bianca invece le galline di piuma rossa sono quelle che queste qui sono galline libere in un capannone con lì ce ne sono circa 5 mila e vanno a fare le uova, si intravedono a malapena lo spazio a disposizione è comunque pochissimo anche per loro però possono muoversi un minimo perché i posti per fare le uova sono i nidi, sono posti là dietro le uova che si ottengono da queste galline vengono messe in incubazione e le figlie di quelle galline là sono quelle che fanno le uova che invece poi servono a mangiare per noi perché una volta c'è stato il periodo che c'erano i sessatori dei pulcini i pulcini appena nati venivano sessati per vedere sono maschi e femmine per vedere che filiera dovevano fare adesso per risparmiare anche qui invece di avere la manualità c'erano i giapponesi che erano i famosi sessatori invece di avere i sessatori si è scelto due linee diverse il piumaggio bianco va per fare il pollo da carne e il piumaggio rosso serve per fare le galline da uova vedete poi le galline da uova sono messe ci sono anche strutture più grosse di queste naturalmente le galline sono tutte debeccate perché altrimenti si beccherebbero tra di loro c'è da dire che dal gennaio del 2012 dovrebbero essere nelle condizioni che abbiamo visto le galline avevano a disposizione 550 cm quadrati pro capite equivale a un 20x30 più o meno neanche 20x30 20 cm per 30 adesso con la nuova legge del 1 gennaio del 2012 la superficie a disposizione deve essere di 750 cm non è che sia tanto di più la soluzione che si sta adottando è togliere queste gabbie qua e fare delle gabbie molto più grandi dove ci stanno dentro 20-25 galline perché sempre la legge prevede che ci siano delle strutture dove la gallina possa comunque camminare comunque tagliarsi le unghie ci sono dei sistemi di griglia forata è anche previsto che le galline debbano avere un minimo di lettiera dove poter raspare perché chi conosce come vivono le galline le galline libere e anche i polli naturalmente amano a raspare allora però appunto la soluzione è quella di fare gabbie di circa 2 metri e mezzo di larghezza per 2 metri di fronte per 2 metri di larghezza dove mettere dentro circa 20-25 galline adesso per arrivare a quella quota di 750 questo è il gavage la situazione di mettere tanti animali assieme vale per tutti gli animali questi sono dei conigli anche loro vedete praticamente la possibilità di muoversi e naturalmente non parliamo poi degli allevamenti di pesce chi è che mai andrà a controllare quanti pesci ci sono e ricordiamoci che l'80% del pesce che si mangia no, il 50% del pesce che si mangia arriva dagli allevamenti ma è una quota in un aumento spaventoso il malessere degli animali queste situazioni qui non sono gradite agli animali la dimostrazione ce l'abbiamo dai cosiddetti allevamenti biologici gli allevamenti biologici sono obbligati per legge a non trattare mai gli animali con gli antibiotici perché? perché se gli danno gli antibiotici l'animale non può più entrare non può più essere venduto come animale biologico come carne biologica ebbene gli animali negli allevamenti biologici vivono anche i bovini fino a 2 anni senza avere malattie perché? semplicemente perché hanno un po' più di spazio a disposizione hanno situazioni un po' più vicine alla naturalità e quindi questa è la dimostrazione diciamo la prova provata che invece in questi tipi di allevamenti che abbiamo visto gli animali devono essere aiutati e devono essere aiutati come? con gli antibiotici questi sono dati ufficiali metà degli antibiotici prodotti in Europa serve per gli animali di allevamento negli Stati Uniti l'80% degli animali degli vaccini degli antibiotici scusate degli antibiotici prodotti serve per gli animali di allevamento poi vedremo le conseguenze naturalmente poi ci sono coloranti, conservanti, appetizzanti e poi le sostanze più pericolose ormoni, anabolizzanti e betagonisti le conseguenze per la salute umana tranquille tanti dati sono buoni noi controlliamo lo 0,5% di bovini e lo 0,05% dei suini che alleviamo quindi potete stare tranquillo che se si passano degli elefanti li troviamo di sicuro allora abbiamo detto degli antibiotici abbiamo un aumento dell'antibiotico resistenza dichiarata da tutte le fonti internazionali e guardate allora si calcola che solo per una malattia per la campi lobateriosi solo per la campi lobateriosi si stimano 25.000 persone morte ogni anno in Europa e 90.000 morti negli Stati Uniti per il meccanismo che abbiamo detto prima ma il meccanismo non è così diretto gli studi sull'antibiotico resistenza continuano ad andare avanti allora noi negli animali siccome di tutte le molecole ormai non si può più parlare di residuo a zero perché un po' di anni fa si parlava di residuo a zero cioè si diceva che negli animali non dovevano esserci residui di nessun genere poi si è visto che non era praticamente possibile per non avere residui non devi dare nulla se dai qualcosa il residuo c'è soprattutto con i sistemi analitici di oggi si trovano anche dei residui infinitesimali piccolissimi allora solo un po' di mesi fa abbiamo fatto una ricerca che poi non è sfociata niente perché quelli delle Iene mi hanno scontattato e volevano un risultato molto eclatante abbiamo fatto analizzare delle carni e i risultati eclatanti non sono venuti c'è il sospetto che magari quando si muove in questo campo è sempre giustificato ogni tipo di sospetto anche che l'analista abbia chiamato l'asso-carni o l'asso-farma e si sia fatto pagare direttamente dall'asso-farma invece che dalle Iene comunque i dati che ci ha presentato gli esiti nelle carni la presenza di antibiotici e di cortisonici era bassissima ok va bene però noi dovevamo pensare a cosa succede cosa succede se nelle carni è bassissima comunque agli animali è stato somministrato l'antibiotico l'antibiotico somministrato dove finisce come esattamente quello che consumiamo noi e che consumano i nostri animali d'affezione o di famiglia finisce nei terreni perché zira e zira con l'acqua e soprattutto poi quello degli animali è inevitabile i reflui degli animali vengono sparsi sui campi e proprio queste dosi basse di antibiotici che attraverso il catabolismo degli animali finiscono nei terreni proprio quelle dosi basse di antibiotici sono più pericolose di quelle alte perché l'antibiotico alto uccide il batterio invece l'antibiotico a basso livello che cosa fa? aiuta a selezionare i batteri che resistono perché noi immaginiamo che nel sapere comune noi pensiamo che il batterio ci sia un solo tipo di batterio ma ogni batterio che noi conosciamo ce ne sono miliardi che gli assomigliano che sono simili e che con lui poi i batteri hanno questo brutto difetto che possono scambiarsi pezzi di DNA non solo con la trasmissione verticale in qualche modo definibile sessuata se vogliamo ma anche semplicemente stando vicini si possono scambiare dei pezzi di DNA quindi basta che in qualche parte ci sia un batterio che riesce certo che non è mica una cosa che succede tutti i giorni però noi l'antibiotico resistenza la stiamo che dà quei dati che abbiamo visto prima sta diventando il primo dei problemi di sanità pubblica tanto è vero che in Europa anche questa è una notizia credo che sia circolata poco si è proposto di stanziare 2 milioni di euro che è una cifra che fa ridere per la ricerca comunque si è proposto di stanziare 2 milioni di euro per verificare e studiare la possibilità di utilizzare le cure omeopatiche negli allenamenti intensivi perché sarebbe il modo migliore per affrontare il problema dell'antibiotico resistenza naturalmente come sempre c'è un'altra soluzione perché negli Stati Uniti propongono di affrontare la situazione con dei cambiamenti genetici negli animali questa è una notizia che ha il problema questo è dal 2002 ma già da prima che si discuteva quindi 10 anni fa già si diceva del problema degli antibiotici nella carne il problema degli ormoni il problema degli ormoni è inesistente in Italia io sono andato a gennaio dell'altro anno però già a una conferenza c'era un mio collega che si occupa della ricerca degli ormoni in cui diceva che spiegava tutto e come si fa la ricerca degli ormoni e come praticamente non si trovi più nessun ormone e però tra le diapositive che presentava faccia vedere la carcassa al macello così si chiama comunque un bovino macellato al macello diciamo tra virgolette non trattato è un bovino di quelli che come si dice nel gerbo trattato il problema qual è però è che se io vado nelle stalle la tipologia dei vitelli che vedo è tutto quello di quelli trattati non di quelli non trattati cioè per intendersi uno è magro e l'altro è rotondo come quello che avete visto e allora come mai come si spiega che noi non troviamo più queste sostanze e si spiega perché perché la guerra tra guardie e ladri in questo caso la vince sempre la vincono sempre i ladri perché noi dobbiamo pensare che la ricerca non è semplicemente buttare giù una rete e raccogliere tutto le ricerche delle sostanze richiedono di conoscere più o meno qual è la sostanza per avere il reagente che manifesta quella sostanza se io produco la sostanza vietata mica dico alla sanità nazionale guardate che questa sostanza qui si cerca con questa molecola qua me ne guardo bene dal dirlo perché altrimenti non la vendo più difatti detto tra di noi come noi in Piemonte non so se anche in altre zone abbiamo ad esempio la legge che non si possono vendere le cozze sul mercato se non c'è il banco frigorifero e all'inizio quando sono esplosi i telefonini il nostro servizio veterinario ha fatto tanti interventi perché c'era quello vicino che si era adeguato che ci chiamava dicendo guardate che quello vicino non è in regola allora noi andavamo prendevamo proprio quello che ci segnalavamo sugli ormoni succede la stessa cosa perché ogni tanto quei pochi che si prendono quelli che si prendono quelli che il venditore o il vicino o qualcuno magari gli vuole fare un dispetto e gli vende uno di quei pochi prodotti che noi cerchiamo i betagonisti che sono quelli che recentemente hanno inchiodato contador tra l'altro i betagonisti è una bellissima storia farmacologica perché i betagonisti erano le molecole che si usano tuttora per i malati di cuore perché bloccano appunto sono dei beta bloccanti e si è visto nelle prove fatte sugli animali che in topoline a cui si dava questa sostanza oltre al resto mettevano su una muscolatura da 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 giocatore di football americano e allora hanno incominciato perché hanno delle caratteristiche per cui facilitano la produzione l'energia che si che si introduce nel corpo la deviano facilmente verso la produzione di proteine e non verso la produzione di grasso quindi fanno fanno la fanno la appunto rendono queste belle masse muscolari e allora questa questi betagonisti sono stati introdotti nel nel in zootecnia qual è il problema che noi ufficialmente cerchiamo 15 molecole di betagonisti e betagonisti potrebbero essere 2000 3000 perché poi è una catena tra l'altro quasi tutti gli ormoni hanno una storia strana perché come origine sono tutti vicini alla molecola del cortisone il cortisone è una molecola basilare per la vita e basta cambiare un doppio legame di quei tre o quattro che ci sono nella molecola per cui la mia analisi non lo trova la conseguenza quale potrebbe essere una delle conseguenze queste e questa notizia di dieci giorni fa Guarinello che da una vita che segue queste cose a Torino abbiamo avuto 106 casi di telarca in un anno ma il caso è stato scoperto in una bambina di un anno il telarca significa avere il seno sviluppato molto prima dell'età dell'adolescenza questa bambina di un anno ha avuto il seno sviluppato e ci sono stati 106 casi solo a Torino allora il discorso è evidentemente allora questi qui sono inquisiti sono gli omogeneizzati allora o a Torino vendono solo gli omogeneizzati speciali o a Torino ci sono i medici che trovano queste cose o Guarinello o c'è tutto il peggio a Torino oppure solo a Torino si guardano queste cose a Torino lo stiamo guardando da una vita queste cose voi pensate che so a Modena a Bologna a Milano tutto tace come la vignetta che abbiamo visto prima tranquilli stati tranquilli che tutto il male è tutto a Torino non lo dico non me ne importa niente perché io ho sempre lavorato a cercare le cose però appunto mi accorgo che cerca cerca ma trovi solo quello che ti vogliono far trovare altri problemi questi qui qui andiamo nei problemi ambientali che sono quelli che sono stati denunciati anche appunto dalla FAO dalla FAO allora nel mondo si producono circa perché poi voi capite da un anno all'altro un po' le produzioni possono cambiare noi siamo su circa 2000 milioni di tonnellate di cereali di questi 4 cereali il mais frumento soia e riso e il 50% circa serve per alimentare gli animali degli elementi intensivi anche questo 50% voglio dire non è che sia spaccato al centesimo perché c'è chi dice 45 che c'è chi dice 40 comunque forse anche solo il 40% mi sembra che sia una bella una bella cifra serve per alimentare gli allenamenti intensivi e teniamo presente che la carne è consumata di livelli altissimi solo da circa un miliardo e mezzo di persone nel mondo noi siamo 7 miliardi di persone tutti gli altri miliardi di persone non è che non mangiano la carne per scelta vegetariana non la mangiano perché non ce l'hanno proprio a disposizione perché poi vedremo le cifre che si mangiano perché quel miliardo e mezzo che mangia la carne ne mangia quantità spaventose un hamburger equivale a una desforestazione di 6 milioni di 6 metri quadri queste cose credo le sappiate tutte perché ogni tanto i giornali le dicono dal 2000 dal 2005 si sono persi 7,3 milioni di ettari all'anno anche questo è un percorso che si sa la fame di Pasqua la fame di cereali soprattutto fa sì che si vadano ad attaccare le foresti pluviali che sono l'unico per ora che conosciamo l'unico grande pozzo vero di anidride carbonica e vengono sfruttate per 4, 5, 6 anni poi il terreno diventa inutilizzabile per le coltivazioni perché si tratta di terreni molto vergini e molto suscettibili allo sfruttamento quindi periscono molto rapidamente sul consumo di terreno merita fare questa considerazione tipicamente nostra facciamola allora noi sul terreno c'è una pressione altissima perché abbiamo la pressione dei cereali che abbiamo visto ma abbiamo anche due nuove pressioni che sono minimi ne ho dimenticato un'altra allora abbiamo il problema del biogas perché le regioni le nostre regioni Piemonte Lombardia Emilia e Veneto sono autorizzate a produrre biogas col mais però sapete come siamo noi italiani teoricamente noi in Piemonte abbiamo un limite del 20% cioè nella massa del biogas si farebbe con le deiezioni dei bovini e dei suini noi potremmo aggiungere in Piemonte il 20% nella Lombardia il 40% non solo Emilia e il Veneto quanto possono mettere però il concetto quale sarebbe che io nel biogas metto come mais la pianta non la granella si sta già verificando il fatto che nel biogas per fare il biogas insieme alle deiezioni mettono direttamente la granella di mais quindi siccome in Italia la produzione di energia alternativa viene pagata tantissimo conviene molto di più buttare il mais direttamente nelle feci degli animali senza neanche farlo mangiare dagli animali pensate allo spreco che c'è in questo passaggio non ho aggiunto ma devo aggiungerlo le biomasse io quando sento parlare di biomasse un po' mi spavento perché biomasse è un modo per ottenere dell'energia pulita pulita fino a un certo punto perché quando io brucio la legna anche la legna produce diossina però per ottenere una biomassa utilizzabile e che sia veramente rinnovabile sarebbe bene prevedere delle coltivazioni di alberi da riciclare non destinare terreni e gli alberi dovrebbero essere coltivati in zone marginali non in terreni fertili dove tolgono spazio alle coltivazioni per il cibo delle persone e poi l'ultima grande rovina che impone sul terreno sono i pannelli fotovoltaici tante volte si utilizzano invece di utilizzare capannoni tetti superfici non coltivabili si utilizza terreno fertile per fare coltivazioni per mettere i pannelli fotovoltaici abbiamo dimenticato prima un particolare visto che abbiamo citato la diossina diciamo due parole la diossina se vi ricordate è esplosa nel 99 quando nessuno quando non si mangiavano polli per un mese non si è mangiato né polli né suini perché qualcuno aveva trovato il modo di utilizzare l'olio sintetico dei trasformatori elettrici era stato portato ad alta temperatura ridotto in polvere poi aggiunto nei mangimi di quegli animali i cui mangimi sono grassati che sono appunto i polli e i suini però dopo di allora guardate un po' nel 2000 abbiamo avuto un altro caso nei polli nel 2003 nei pesci nel 2004 nei polli nei pesci nel 2006 di nuovo in Belgio che c'era già stato nel 99 è ricaduto nel 2007 l'abbiamo avuto in Campania nel 2008 in Irlanda Taranto è un posto dove la diossina basta cercarla e si trova nelle produzioni lì però non per una scelta volontaria ma perché c'è Little Cedar che spara diossina nell'aria che ricade sul terreno e che finisce negli animali nel 2009 abbiamo avuto l'unica abbiamo fatto però noi la cerchiamo è la diossina la cerchiamo in Piemonte abbiamo fatto un campione in un anno e l'abbiamo subito trovata la presenza di diossina però la cerchiamo ci sono dei dati in 12 anni non li ho messi in 12 anni si sono cercati si sono fatti 400 campioni in Italia e i campioni che abbiamo mandato in Europa non erano utilizzabili perché non li abbiamo raccolti bene però la diossina la cerchiamo l'ultimo è stato nel 2011 di nuovo nel Mangime dei Polli in Germania dicevamo il suolo bisogna ricordare quando parliamo di cereali utilizzati dagli animali che c'è una catena energivola c'è una decadenza dell'energia incredibile perché minimo un bovino ha bisogno di 11 kg di cibo per crescere di un chilo un vitello giovane invece ne vuole più di 13 un suino circa 4 e mezzo un pollo quasi 3 un coniglio 4 un anello più di 24 però il bovino purtroppo per lui è un trasformatore veramente diciamo poco redditizio da questo punto di vista perché voi dovete pensare che per allevare un bovino all'anno io devo anche allevare per tutto l'anno una bovina vero che le prendo il latte se è una razza da latte ma se è una razza da carne io devo mantenere due animali per avere un animale e portare il macello all'anno l'acqua l'acqua anche questa è una cosa che si sa un hamburger mangiare un hamburger equivale a fare 15 docce ho provato a fare i conti è vero i dati più o meno sono questi un chilo di carne bovina sono 15 mila litri questo è il dato presentato al terzo forum mondiale dell'acqua a Chioto Veronese lui alza più che raddoppia la cifra dice che un chilo di carne bovina servono 32 mila litri di acqua la carne suina sempre per i motivi che i suini non hanno comunque quando si fanno i conti sui bovini deve sempre calcolare che c'è una madre e un figlio che convivono e che raddoppiano tutti i consumi un suino solo 4300 kg di acqua per un chilo l'inquinamento dell'aria è l'ultimo che è arrivato il 18% del metano che il metano è un gas effetto serra molto più potente della CO2 difatti i calcoli che vengono presentati sono in CO2 equivalenti il metano viene moltiplicato il valore del metano viene moltiplicato per equipararlo alla CO2 deriva a livello mondiale il 18% deriva dalla digestione dei bovini e la stessa FAO quindi l'ONU hanno dichiarato in quel documento che credo Live Stock che avrete visto inquina di più a livello mondiale l'allevamento dei bovini dei trasporti su gomma quindi quando ci vogliono far vedere l'alta velocità che poi passa vuota e non porta le merci bisognerebbe ricordarli anche questi dati l'inquinamento del suolo i liquami sono feci mescolate con acqua e inquinano i corsi di acqua e le falde perché un tempo si usava il letame il letame ha il famoso anche nella parola latina letamen richiama all'idea di una ricchezza perché il letame era quello che rendeva fertili i terreni originariamente gli uomini primitivi hanno imparato a usare il letame vedendo che dove pascolavano gli animali l'erba cresceva più rigogliosa quindi era un contenuto proprio di però invece i liquami che abbiamo visto prima che si usano ormai la maggioranza degli eventi intensivi si basa sul concetto dell'animale libero sul grigliato che poi le feci e le urine vengono lavate con acqua e finiscono in queste grosse cisterne in queste grosse cisterne aumenta tantissimo la quantità di prodotto inquinante e poi vengono sversati sui terreni e di lì con i corsi d'acqua finiscono poi anche nei nostri mari vediamo subito dopo un suino inquina da 4-6 cubi di acqua al giorno oppure come 4 persone la popolazione equivalente nella pianura padana di animali allevati equivale a come se sulla pianura padana oltre a noi ci fossero 126 milioni di persone che vivessero qui assieme a noi l'azoto nel mondo io ho fatto un calcolo in base a quanto diciamo il contenuto di azoto nelle feci si arriva a 116 milioni di tonnellate all'anno però guardate un po' cosa succede l'Unione Europea ha appena concesso alle 4 regioni del nord Italia di derogare dai limiti di emissione di nitrati nei terreni noi siamo in una situazione per cui nel nord Italia noi dovremmo fare cosa diminuire il numero di animali allevati allora le nostre regioni sono andate in Europa e hanno detto ma scusate noi non possiamo mica mettere a rischio la nostra economia e allora l'Europa ci ha concesso di derogare da questo limite di 250 kg di azoto per ettaro da spargere nel terreno perché avremmo appunto dovuto diminuire tenete presente che l'Europa o lo sa o non lo sa o fa finta di non saperlo quale sarebbe il principio il principio è che tanto la legge che stabiliva il controllo dell'azoto risale agli anni 90 noi praticamente non l'abbiamo neanche ancora recepita in Italia perché cosa abbiamo fatto abbiamo fatto delle norme legislative che hanno trasferito le regioni e ogni regione si comporta come può però io sono stato dieci anni consigliere regionale in Piemonte e allora quando si affrontavano questi discorsi cosa si diceva però cosa fanno in Emilia cosa fanno nel Veneto cosa fanno in Lombardia se noi in Piemonte facciamo diverso noi penalizziamo i nostri elevatori allora facciamo cosa fanno gli altri non che avessero mai voglia di fare diversamente non illudetevi non era che se venivano stimolati rispondevano così però che cosa succede che l'azoto assieme anche al fosforo al potassio che sono anche l'azoto è quello più pesante quello di maggior contenuto nelle fece e nell'urina poi c'è anche fosforo e potassio che però sono anche loro dei belli inquinanti comunque l'azoto finisce nei terreni e provoca quella che è un aumento di concentrazione l'aumento di concentrazione finisce nei corsi d'acqua sia perché può essere sparso troppo abbondantemente sui terreni e qui fa i rivoli e finisce nei corsi d'acqua superficiali e poi nei corsi nei fiumi e nei mari oppure penetra nel terreno fino alle falde acquifere di fatti il discorso quale sarebbe per verificare qual è la situazione dell'acqua che si beve che si consuma bisognerebbe fare un prelievo e verificare qual è la situazione delle falde acquifere noi in Italia abbiamo dei prelievi che ci dicono che il limite previsto di 50 mg per litro di azoto presente nell'acqua di falda noi non la raggiungiamo mai siamo sempre a dei livelli molto inferiori perché andiamo a cercarlo dove non ci sono gli allevamenti facciamo i nostri sondaggi là dove non ci sono gli allevamenti così va tutto bene però l'ambiente che non sa leggere i sondaggi perché è stupido l'ambiente e i mari non sanno leggere i sondaggi cosa succede succede quello che ad esempio succede nel mar giallo che per problemi di inquinamento ci sono delle zone del mare che sono già definite morte perché dove arriva una troppo forte concentrazione di un solo prodotto nutriente cosa succede che ci sarà qualche essere vivente alga che da quella sostanza lì trae ragionamento però tutte le altre ne saranno danneggiate fino a morirne e allora la morte biologica cosa significa che non è che ci sia la morte totale è che sopravvive solo una o due specie molto rigogliose ma non c'è quella varietà che invece è caratteristica degli ecosistemi vivi e vitali mar giallo la stessa cosa si verifica nell'Adriatico noi abbiamo le zone solo che le alghe che vi ricordate non ho scritto l'età giusta non mi ricordo più il momento giusto in cui erano venute le alghe nell'Adriatico le alghe nell'Adriatico adesso va tutto bene perché per motivi di correnti non arrivano più a riva ma le alghe nell'Adriatico ci sono come gli anni famosi in cui arrivavano a riva però siccome adesso non arrivano più a riva tutti possono bagnarsi tranquillamente va tutto bene consumo di energia un chilo di carne equivale a nove litri di petrolio perché questi sono dati tra l'altro trovati su un libro non di zootecnia ma un libro sui problemi energetici serve olio per combustibile per produrre i fitofarmaci e i fertilizzanti per spostare gli animali vivi ai loro prodotti per coltivare i cereali di cui si cibano tanto per dire lo spostamento degli animali vivi complice l'Europa come voi sapete che in Piemonte c'era una zona che era famosa per i peperoni adesso questa zona famosa per i peperoni si coltivano fiori si coltivano tulipani e in Olanda si coltivano i peperoni i peperoni tra l'altro olandesi li conoscete anche voi se li vedete perché sono quelli quadrati e ce ne stanno 39 in una cassetta mentre i peperoni piemontesi sono lunghi e storti e berniocoluti e non presentano bene e l'Europa paga perché i camion portino i peperoni olandesi in Italia e i tulipani italiani in Olanda ma fa lo stesso con i bovini noi i bovini francesi che avete visto prima vengono in Italia vengono ingrassati e poi sovente possono anche tornare in Francia per essere macellati e poi tornano in Italia come carne da vendere il tutto sovvenzionato dai montanti compensativi dell'Unione Europea un chilogramma di carne quindi 9 litri di petolio oppure 27 kg di anidride carbonica e abbiamo delle conseguenze sociali perché anche l'ultima protesta dei forconi non so se ho sentito un signore un coltivatore che in televisione si lamentava e dice non ce la facciamo più andare avanti io non so qual è la situazione di quell'allevatore lì posso pensare sicuramente che sia giusta che sia vero quello che dice ma io so che ci sono i grandi allevatori i grandi proprietari di aziende di mais o i grandi risicoltori che solo perché possono giocare sulla montare dei premi della CE uno che coltivi 200-250 ettari di mais o l'equivalente di riso guadagna lavorando tre mesi dai 250 ai 300 mila ettari questo signore non credo magari tra quelli che vanno a protestare ci sono anche questi qui perché in Italia è così perché c'è il piccolo che invece si vede chiudere deve chiudere la stalla o abbandonare i campi perché non ce la fa vivere perché ha solo 10 ettari di terreno viene nel calderone messo assieme a quello che invece ogni anno compra il trattore che ogni anno perché non ci sarebbe però ogni 3-4 anni compra il trattore che costa 150 mila euro perché adesso i trattori più grossi con l'aria condizionata che vedete nella nostra pianura padana viaggiano su quel prezzo lì perché come sempre in Italia non riusciamo mai a fare un discorso ragionato e obiettivo noi abbiamo una miriade di piccoli e questo è il fatto della chiusura dei piccoli allevamenti e delle piccole aziende agricole è un fatto che comunque è testimoniato dai dati perché basta vedere i dati i dati si dicono che ogni anno c'è un numero consistente di aziende che chiudono ma la superficie agricola coltivata va a aumentare per unità di azienda cosa significa che le aziende che chiudono il terreno viene gestito da altre e idem vale per gli animali le aziende chiudono ma gli animali come quella che dicevamo prima l'azienda di Cento Capi del Piemonte che questa settimana è stata venduta chiave in mano a un allevatore lombardo perché adesso ormai abbiamo aziende che viaggiano sui mille bovini allevati da latte e guardate ad esempio chi ha ancora ricordi contadini o chi conosce insomma un po' la vita dei bovini sa che le bovine si mungevano due volte al giorno adesso queste stalle che vanno sui mille capi vengono munte tre volte al giorno il personale è rumeno o indiano e inizia a lavorare le 4 del mattino e finisce a mezzanotte c'è da sperare che facciano i turni queste sono le aziende e in più queste aziende sono poi quelle che fanno il biogas perché avendo una massa così grande quindi c'è questa sproporzione e in questa sproporzione cosa succede? Ed è vero quello che dicono però gli allevatori che i loro prodotti valgono sempre meno perché su questo numero di quantità e chi ha tanta quantità da vendere vende anche a un prezzo diciamo che a mala pena arriva a compensare i costi perché il guadagno è dato dai contributi europei metà dei contributi europei circa 45 miliardi di euro all'anno sono distribuiti dalla comunità europea agli allevatori e ai contadini però appunto non prevedendo delle scale diciamo inverse per cui al contadino più piccolo concedi proporzionalmente di più succede che i grandi allevatori e i grandi agricoltori schiacciano i piccoli perché il piccolo non può vendere al prezzo di costo perché altrimenti quello che gli arriva dall'Europa non gli può garantire la sopravvivenza le politiche europee favoriscono gli aventi intensivi e le vacche sono finanziate con 2 euro al giorno ero a Capoverde è un'isola che al di là del nome con la regione al di là del nome è tutta brulla nell'unico posto dove c'era un po' di verde è arrivato un signore che si informava per fare cosa per fare un allevamento di bovini perché il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale tra le politiche che impongono i paesi che dicono di aiutare sono quelle di sviluppare gli allevamenti intensivi perché io devo fare l'allevamento intensivo favorisco e vedremo le multinazionali che sono quelle che guadagnano dall'affare e anche i cementieri perché sovente per fare l'allevamento ho bisogno di acqua e quindi magari faccio dighe faccio invasi lavoro col cemento tra parentesi quando un mio amico era stato un professore idrologo gli avevano chiesto Cannata Giulio Cannata gli avevano chiesto a Reggio Emilia volevano fare un enorme invaso di acqua e gli avevano detto che serviva l'acqua per produrre a Reggio Emilia il parmigiano Reggiano naturalmente questo che era una persona che insomma professore universitario si è informato un po' e ha visto che quell'acqua non sarebbe assolutamente servita per fare il latte del parmigiano Reggiano perché più della metà del latte arrivava da fuori e quindi l'acqua che avevano era sufficiente di fatto non è stato fatto l'invaso però per dire come le cose vengono la pesca meriterebbe un discorso a parte è lunghissimo perché noi la pesca favorisce che cosa le politiche internazionali favoriscono le grandi flotte di pesca noi pensate che abbiamo il 4% della flotta di pesca che riesce a pescare il 20-25% del pescato sono navi che ormai si muovono col radar e con i satelliti individuano dove ci sono i banchi di pesce e quando arrivano li depredano naturalmente mentre una volta i piccoli pescatori andavano a largo poi si resistevano due o tre giorni poi devono tornare a riva queste barche stanno fuori mesi e mesi quindi di fatti abbiamo detto visto prima che l'80% degli stocchittici è depredato e l'altra conseguenza è che chi di voi insomma quando si conoscevano delle persone che arrivano dall'Africa dal Sud America dai paesi diciamo tra virgolette poveri era abbastanza comune per sfamarsi andare a andare sul nel mare le donne stesse andavano sul mare prendevano qualche pesce o anche i granchi grossi insomma e riuscivano a sfamarsi adesso con quello che succede a livello del mare anche le popolazioni rivierasche hanno problemi di nutrimento abbiamo andato avanti sì naturalmente questo è un articolo del manifesto stretti dai debiti i pescatori si riconvergono in trasportatori di migranti questo va avanti da solo l'altro discorso della conseguenza ambientale sono i concimi chimici perché oltre tutto quell'azoto che abbiamo visto che dagli alleamenti finisce nei campi non è che il modo migliore il modo più saggio per diminuire comunque l'impatto dell'azoto sul terreno sarebbe di dire se metto il liquame metto meno azoto chimico no metto il liquame e in più aggiunco anche l'azoto chimico questo cosa succede che se io la famosa rivoluzione verde che è stata fatta immettendo molti prodotti chimici nel terreno però il terreno è fatto di humus l'humus è la parte vivente del terreno diciamo così che però non si riforma solo con la con la con la concimazione chimica e le piante estraggono sia l'humus che la concimazione chimica quando vi faccio questo esempio il pomodoro pacchino viene coltivato io sono stato a Vittoria Vittoria produce molto più pacchino che non però pacchino è un nome più bello che non Vittoria e sono riusciti a brevettarlo parlavo di questo di questo fatto un mio amico che era stato 4 anni prima di me mi dice ma sai cosa fanno lì a Vittoria e a Pacchino che ogni 2 o 3 anni devono togliere il terreno e metterli nel terreno nuovo per poter ancora coltivare e produrre il pomodorino e il ciliegino e gli dicono no adesso non fanno neanche più così perché adesso in quelle zone ma tra un po' arriveremo anche qui in pianura padana il terreno ormai è morto e usano il terreno esattamente come hanno inventato gli israeliani ovvero il terreno serve solo a tenere sulla pianta e tutto quello che serve alla pianta viene dato con l'irrigazione goccia a goccia perché quel terreno lì è morto non ha più sostanza da dare alla pianta e quindi queste cose non si sanno te le dicono quando vai giù però però non si sanno perché però noi purtroppo i pomodori li mangiamo tutto l'anno però io quando ero piccolo i pomodori c'era il negozio di primizia davanti a casa dei miei che vendeva i pomodori d'inverno e guai a comprare i pomodori d'inverno perché costavano cari adesso andiamo al supermercato costano quasi come l'estate l'uso dei prodotti chimici questo è interessante c'è anche una notizia di dieci giorni fa i fertilizzanti nel mondo se ne usavano negli anni 50 20 milioni di tonnellate i dati sono già un po' vecchi nel 2000 150 milioni di tonnellate i pesticidi 2 miliardi di dollari negli anni 50 sempre 30 miliardi di dollari nel 99 sono ancora aumentati adesso queste cifre però non sempre facile trovarle proprio il 7 di febbraio sulla Repubblica c'era un articolo che parlava di 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 sistemi per cercare di diminuire l'uso dei prodotti di farmaci agricoli era una fiera di Verona parlavano che con i trattori vendevano dei sistemi di trattamento dei terreni per cercare di diminuire l'uso uno degli intervistati ha detto questa cifra servono 100 tonnellate di farmaci agricoli per 250 ettari cioè equivale a 400 kg di farmaci agricoli per ettaro questa è la cifra e questa è la quantità che noi mettiamo nei nostri terreni e questo vale per tutti dovrà sempre rifarci il fatto che metà dei cereali servono per gli animali degli alleamenti ma le perdite per parassiti nonostante le quantità che noi utilizziamo e che mettiamo sono aumentate addirittura rispetto al medioevo dal 35 al 42% questo è da un libro di Bruce Wimmer e Cocidio che copia il nome dello stesso libro di Rifkin i cereali perché dicevo prima che conviene questo sistema questo sistema rende solo alle multinazionali i cereali anche questo è un dato non freschissimo comunque due cartelli Monsanto manca una N controllano il 60% del mercato globale delle sementi gli stessi due cartelli controllano il 75% del mercato globale dell'agrochimica se ci ricordiamo che la cifra erano 30 milioni 30 miliardi di dollari pensate a queste due multinazionali e pensate a chi ci guadagna da questo giro di affari pesticidi 5 società controllano il 65% del mercato globale questi dati li trovate su tutti i libri anche su quello di Ray Patel io lo pronuncio così è un indiano che lavora in Svizzera i padroni del cibo si chiama naturalmente c'è chi propone di utilizzare gli OGM diciamo solo che a parte tutte le cose biopirateria allergie intoneranze contaminazione delle coltivazioni diciamo semplicemente che tutto laddove è stato proposto gli OGM per aumentare le produzioni sono tutte fallite e non hanno mai portato a nessun risultato allevamenti di pesce di gamberetti anche qui abbiamo detto metà dei pesci che si mangia arrivano dagli allevamenti qui chi mai controllerà quanti animali ci sono chi mai controllerà gli antibiotici che vengono messi chi mai naturalmente le deiezioni oltretutto noi leviamo tutti i pesci carnivori e quindi gli diamo da mangiare proteine animali ai pesci quindi certo le proteine sono proteine di scarto però è tutto un consumo di proteine per fare altre proteine le malattie tecnologiche prima abbiamo accennato abbiamo accennato all'antibiotico resistenza poi ci sono anche le malattie la Streptococcus Suis che è una Streptococci sono batteri abbastanza ubiquitari nell'ambiente e cosa succede con la convivenza di molti animali assieme il batterio e confrontandosi continuamente con la presenza di antibiotici il batterio sviluppa delle forme di resistenza per cui quando qualche persona viene contagiata da un batterio che ha acquisito la resistenza sovente prima che si trovi la cura la persona è già morta di queste malattie ricordiamo le aflatossine meritano per un ricordo perché le aflatossine ognuno ha i suoi totem allora veronesi che è uno che giustamente diffonde l'alimentazione vegetariana ahimè non solo difendeva le centrali nucleari ma difende anche gli OGM e una delle forme che utilizza per difendere gli OGM sono le aflatossine le aflatossine sono le tossine tossiche prodotte da un micete che si sviluppa durante la conservazione del mais però qual è il problema lui dice se noi facessimo il mais il mais transenico questo non si svilupperebbe e ci guadagnerebbero la Monsanto che ha sviluppato vabbè però a parte questo l'altro discorso cos'è il fatto che semplicemente le muffe perché sono muffe si sviluppano perché il mais non è ben conservato quindi basta tornare ad una conservazione corretta del mais e non c'è nessun problema ma è certo che le grandi quantità la fretta il discorso economico fa sì che nella quantità ci siano anche i casi di mais mal conservato e l'Ecole VTech tra l'altro è stato quello che quest'estate ha avuto questi casi che c'erano dei famosi cetrioli tedeschi e anche lì c'è stata una bella disinformazione perché finora non si era mai verificato e neanche questa volta non si è verificato che un batterio si sviluppasse su un prodotto vegetale quindi se il batterio era sui prodotti vegetali era perché il batterio nasceva dagli animali o dalle persone e tramite l'irrigazione finiva sul vegetale dove prima che perdesse la virulenza veniva consumato dalle persone facilitato sicuramente il fatto di consumare il prodotto crudo e non cotto però anche lì è stata presentata con molto clamore solo l'ultimo pezzo della malattia e non il primo pezzo che nasceva sicuramente o negli allevamenti o più facilmente negli allevamenti ancora due cose noi parliamo di un sistema e fino a un po' di tempo fa parlavamo di paesi occidentalizzati adesso l'India Cina e Brasile la Cina è arrivata a produrre una quantità di più di 35 kg di carne pro capite a testa per i suoi un miliardo e 700 milioni di abitanti i fast food poi sono quelli che anche è fondo monetario non fonfo allora andiamo alla fine poi così c'è qualche domanda noi dobbiamo pensare che comunque gli alenti intensivi hanno anche delle ci invitano delle riflessioni più generali allora intanto che la crescita delle produzioni ha causato l'industrializzazione abbiamo visto come sono nati l'aumento e quindi l'aumento delle domande di cereali per gli animali è stato uno di quei motori che hanno spinto la famosa rivoluzione verde per utilizzare le continuazioni chimiche un altro segnale molto importante che adesso possiamo diciamo cogliere si potrebbe già cogliere all'or ma che adesso dovrebbe essere chiaro a tutti è che è stata la globalizzazione del settore in quanto quando ancora c'erano i dazzi eccetera però i prodotti agricoli io mi ricordo che negli anni settanta in piena epoca di quando ho cominciato a fare veterinari in piena epoca ancora di dazzi già allora mais orzo soia arrivavano attraversavano l'oceano e arrivavano da noi quindi i primi diciamo uno dei primi settori veramente globalizzati è proprio stata la filiera agro alimentare agrozootecnica e la zootecnia e l'agroindustria ha anche diciamo quasi precorso l'evoluzione neoliberista dell'economia mondiale perché perché almeno nelle sue conseguenze di fatti credo che diciamo il giudizio unanime di tutti sia che comunque il neoliberismo ha di fatto aumentato la forbice tra la parte ricca e la parte povera della popolazione tanto è vero che adesso anche adesso mi sfugge il nome comunque chi si occupa di temi di neoliberismo non parla più ad esempio di paesi poveri e paesi ricchi si parla di parte ricca e parte povera della popolazione perché ormai anche nei paesi che una volta non sono situati poveri c'è una parte consistente di popolazione ricca in Cina si parla che ci sia circa 50 milioni di persone che sono forse miliardarie in euro ma questo cosa significa se c'è una parte di popolazione che ha cresciuto così in modo esponenziale il proprio guadagno c'è una invece la parte diciamo più povera della popolazione che ha visto ancora diminuire maggiormente la propria possibilità di vita nelle nazioni cosiddette povere c'è sempre stata c'era una povertà diffusa però la la quota di persone che come si dice muoiono di fame quegli 800 un miliardo di persone che letteralmente non hanno da mangiare o che faticano a trovare il cibo nonostante le promesse della rivoluzione neoliberista noi questo numero di persone non riusciamo mai a farlo diminuire e l'altro segnale che arriva per chi lo vuole cogliere da questi sistemi qual è? è quello che abbiamo detto prima che come per altri sistemi produttivi la produzione agrozootecnica sta arrivando verso dei confini di utilizzo di sostanze di utilizzo di terreni che non si riesce a capire che non si vede più un'ulteriore possibilità di espansione noi abbiamo coltivato tutti i terreni che potevamo coltivare e adesso stiamo attaccando le floreste pluviali che sono fondamentali per la supervivenza del pianeta e naturalmente le forze politiche sono troppo dipendenti dalle lobby economico-finanziarie per ragionare tutti insieme e cercare di stabilire diciamo delle regole per non continuare a consumare i terreni lo vedete oggi proprio oggi è l'anniversario del protocollo di Chioto voi lo vedete il protocollo di Chioto se ne parla tanto ma diciamo regole norme per cercare di andare nella direzione che il protocollo di Chioto aveva indicato non se ne riescono a trovare perché diciamo i decisori politici non riescono ad imporsi sui sulle lobby economiche io dico anche siccome diciamo frequento anche un po' il mondo della decresce io dico che comunque noi non dobbiamo trascurare qual è la difficoltà di comunicare la decresce che secondo me è un po' in questo concetto perché noi non possiamo dimenticare che l'uomo da quando si è sviluppato ha sempre avuto un'idea di futuro collegata ad un'evoluzione che si costruiva anche lui l'uomo ha l'uomo e le donne hanno dentro di sé il concetto che la vita sia creare sempre qualcosa di nuovo si diceva sempre il Brodel che e da sempre l'uomo faceva delle scelte che poi andavano anche contro i suoi interessi ma se ne accorgeva dopo Brodel sostiene che il Triveneto sia stato deforestato per costruire le galere vedete i romani sembra che diciamo si siano indeboliti perché mangiavano nei piatti di rame non stagnati quindi si si avvelenavano lentamente ci sono anche altri esempi che possiamo fare in questo momento è chiaro che se alcune previsioni sono giuste noi avremo diciamo dovremmo usare l'intelligenza per coniugare la voglia e la capacità dell'uomo di creare sempre qualcosa di nuovo con il concetto che la crescita che c'è stata della popolazione mondiale richiede diciamo il soppesare anche come usiamo le risorse che abbiamo disponibili ad esempio questo è abbastanza interessante perché siccome l'ipotesi di ricorrere agli OGM per aumentare perché mentre appunto diciamo c'è una teoria minoritaria che dice cerchiamo di lavorare tutti insieme per stare cercare comunque di migliorare quelli che stanno male e di sopravvivere tutti ma diciamo nell'ottica di sapere che non abbiamo risorse illimitate naturalmente sta nell'essere umano quello invece di dire no noi lavoriamo per spingere la tecnologia e per continuare così senza preoccuparsi dell'esorbimento delle risorse una delle ipotesi appunto di ricorrere agli OGM l'altra che è abbastanza nuova è quella che propongono chi lavora già la carne sintetica ottenuta da batteri e quindi che sarebbe teoricamente a base di proteine animali e però e l'altra ancora l'altra l'altra scelta che viene proposta è questa è sempre questa di Repubblica di poco tempo fa nel 2050 tra alghe e locuste così notriremo 9 miliardi di persone perché come già succede nell'articolo si dice che solo nel nord Europa e nel nord America non si mangiano questi animali gli insetti e appunto le locuste e gli insetti possono essere una risorsa di proteine animali quindi vedete che appunto di fronte in questi articoli c'è anche se vogliamo vedere c'è anche il contenuto di una preoccupazione dell'esoramento delle risorse però le soluzioni che vengono appropriate sono sempre soluzioni di tipo produttivo naturalmente il discorso sarebbe interessante forse indispensabile che a livello decisionale si mirassero a coniugare il sistema produttivo nell'agrozootecnia con le problematiche sociali e ambientali evidenziate e naturalmente l'altro pezzo del discorso sarebbe quello di diminuire forte abbiamo detto vi devo dire il consumo di carne allora noi tutti i libri ufficiali che parlano di alimentazione dicono che sarebbero sufficienti e non necessari sufficienti 35 kg di carne pro capita all'anno in Italia noi consumiamo circa dagli 80 85-90 kg di carne comunemente intesa ovvero pollo suino suino quello di cui se ne mangia di più si superano i 30 kg di suino 25 kg di bovino 29 kg di pollo e poi qualcos'altro di altro genere però a questo bisogna aggiungere i 23 kg pro capita che consumiamo di pesce i 200 litri pro capita di latte all'anno e i 7 kg di uova pro capita all'anno che mangiamo cioè nell'insieme noi mangiamo circa 3-4-5 volte la quantità di proteine animali che sarebbe sufficiente quindi questa dà l'idea delle sproporzioni che noi abbiamo naturalmente finiamo con questo discorso che io non credo che purtroppo io non credo che il discorso ambientale sia quello che poi convinca le persone a cambiare il sistema perché tutti sanno che l'unica nel campo delle malattie tutti sanno che l'unica correlazione epidemiologica che nessuno più contesta è quella tra il fumo delle sigarette e il cancro al polmone perché non so se ci sono dei medici qui comunque il concetto dell'epidemiologia è quello che ci deve essere un esso sicuro non basta dire che c'è una qualche corrispondenza deve esserci un esso sicuro ad una causa corrisponde un certo tipo di malattia e questa è una cosa sicura la gente lo sa le ditte che producono le sigarette tra un po' scriveranno solo più cancro sopra ma solo perché perché fanno così solo perché la gente non possa chiedere i soldi di rimborso e solo per quello il motivo non si preoccupano mica per la nostra salute loro scrivono quello perché chiunque perché hanno pagato due o tre cause miliardarie in dollari e allora proprio su questo fatto perché è stato detto tu non mi hai avvisato che io potevo morire di cancro loro dicono non gli importa niente scrivono finché vogliono cancro sopra perché perché tanto la gente è talmente abituata a fumare che non gli importa niente di quello che c'è scritto sopra e quindi io non credo che tutti i discorsi che abbiamo fatto ambientali saluti tra l'altro adesso lo diciamo questo è dimostrato da tutti da tutti gli studi medici la causa di cancro più comuni ormai è diventata l'alimentazione perché se il 31% dei tumori deriva dal fumo il 33% deriva dall'alimentazione però non c'è un collegamento ancora così diretto come nel fumo per i motivi che abbiamo detto perché l'alimentazione soprattutto carnea può dare origine a una varietà di tumori non ad una sola forma tumorale e poi una persona mangia carne in periodi diversi della vita magari in modi diversi quindi fare questa correlazione così stretta non è possibile però i medici lo sanno tutti gli istituti mondiali di cancro se leggete comunque tra le indicazioni per non le 10 regole per cercare di proteggersi dal cancro oltre a una vita sana eccetera se leggete vedete che la cosa minima è mangiare il minimo possibile di carne e poi soprattutto ad esempio evitare i salumi che danno invece nelle messe scolastiche ai bambini evitare la carne alla braccia evitare la carne cotta a temperatura troppo alta ma queste cose qui vengono dette tanto come per il fumo la gente d'estate è ben contenta di farsi le grigliate per finire io credo che la scelta davvero che appunto che poi sia quella che regge è la scelta che uno fa è etica cioè perché è la scelta che uno sente dentro di sé perché appunto la scelta o ambientale o salutista poi si ricade nel problema del fumo sul cancro io non so se anche qui ci sarà di sicuro anche a Torino fanno è uno dei luoghi dove assieme all'istituto di Milano fanno la ricerca si chiama Diana 5000 è arrivato al quarto stadio di studio e per cui alle donne operate di cancro al seno per evitare le ricadute viene consigliato e insegnata la dieta vegana però il problema è voi pensate che le multinazionali del farmaco siano contente che le donne imparino la dieta vegana per non avere più cancro al seno e sembra che abbia anche effetti benefici per le forme primarie pensate che le indizie farmaceutiche siano contente di quello che preferiscono vendere i farmaci antitumorali a 500 e più euro la dose questa è la domanda che lascio voi finiamo dicendo che naturalmente se si consumassero meno carne se si mangiasse diversamente se ne mangiasse molto meno anche gli animali potrebbero essere allevati diversamente e magari ci guarderebbero con occhi diversi io ora è finito buongiorno io sono vegetariana praticamente vegana da 23 anni principalmente per motivi etici e quotidianamente come penso che accada più o meno a chiunque abbraccia a questa scelta sento un atteggiamento da parte di chi è ancora attaccato all'alimentazione vegetariana tutti i dogmi le tradizioni che ci sono dietro delle intanto una resistenza psicologica molto forte e di solito le giustificazioni che tirano fuori sono sempre quelle che rigirano principalmente le tre che fanno quasi ridere perché sono insostenibili però sono quelle più ricorrenti almeno qui sono che gli indiani d'America anche loro cacciavano i bisonti chiaramente in un contesto sociale culturale ambientale che non ha niente a che vedere con quell'attuale che le carote soffrono per fare il discorso che anche noi comunque non possiamo essere completamente etici e che il leone mangia la gazzella anche questo è ovviamente un paragone che non ha nessun rilievo che è quasi offensivo per l'intelligenza umana le chiedo questo che lei sappia esiste dato che ci sono tantissimi libri documentari anche su internet che trattano tutte queste tematiche sotto vari spetti ce n'è uno che racchiude un po' tutte le motivazioni di carattere sociale ambientale salutistico etico animalista da tutti i punti di vista perché io dopo 23 anni sono stanca tutti i giorni di spiegare le solite cose e allora vorrei iniziare a regalare qualche libro qualche DVD a chi ha voglia di documentarsi un po' diciamo che quella di mezzo quella delle carote che soffrono è quella più bella nel senso che basterebbe rispondergli come diceva Leonardo Leonardo da Vinci lui era vegetariano perché diceva che tutti gli esseri animati che si muovono patiscono il dolore perché il dolore è quello che permette loro adesso traduco insomma però il dolore è quello che permette loro di evitare i pericoli e di sopravvivere i vegetali poi se vogliamo essere un po' più diciamo scientifici io sto lavorando da un po' sul sul tema del dolore degli animali voglio dire tutte le strutture che vengono addirittura a volte anche negate da chi nega il dolore degli animali ma tutte le strutture anatomiche cerebrali e periferiche gangli nervosi che ci sono negli animali e che e che ricepiscono il dolore nei vegetali non ci sono le altre due osservazioni cosa vuole beh libri che parlano in generale a parte che volendo c'è però è più sul sui temi che ho fatto stasera c'è appunto un DVD che abbiamo fatto anche lì 10-12 anni fa che si chiama la fabbrica degli animali una fantasia due nomi quasi uguali che tratta queste cose con immagini la storia cioè gli indiani d'America l'uomo ha sempre ha sempre ci sono state delle voglio dire non è che perché in una società in un ambiente in un mondo si erano fatte delle scelte quelle scelte sono immutabili nel tempo degli indiani in America nessuno andava in aereo voglio dire basta dire questo signore allora vivi come vivevano gli indiani d'America vatti cacciare il bisonte Tostoi una volta raccontano i suoi figli che una volta arrivava la coniata di Tostoi e i figli gli hanno detto ma questa qui mangia solo carne e gli fa beh ci penso io voi preparate per noi che alla coniata sia la zia ci penso io quando la zia è arrivata si è trovato il pollo legato al vivo legato alla tavola e lei ha detto se vuoi mangiarlo ucciditelo e lei naturalmente non l'ha mangiato quindi voglio dire solo per dire che nel tempo ognuno può aver scelto e poi però queste domande l'ultima qual era del ah sì 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 no non è affatto vero perché basta dire che basta dire che l'uomo nella più gran parte della sua vita perché noi l'origine è molto più diciamo si perde molto più nel tempo di quella che storicamente conosciamo l'uomo per la più gran parte del suo tempo è stato solo frugivoro quindi non è stato assolutamente quindi nostra natura tra l'altro si usa ad esempio voi sapete che il panda è diventato vegetariano per motivi ambientali però le motivazioni che si usano per dimostrare che il panda era carnivoro sarebbero le stesse che si potrebbero usare per dimostrare che noi eravamo vegetariani perché ha esattamente un intestino che è corto come quello dei felini eccetera eccetera al contrario noi ha delle strutture dentali da carnivoro e noi abbiamo l'intestino le strutture dentali da da erbivori da vegetariani però nessuno si sogna di dire come di fare un parallelismo di questo genere quindi basterebbe già anche solo questo ricordare però succede sovente che quando uno dice io non so se perché dire che sia vegetariani o vegani fa scattare quasi un senso di colpa nell'osservatore nell'altro perché dicono delle cose solo per offendere quasi quasi che voglia ma io faccio la mia scelta mica ti impongo di fare di fare una scelta diversa eppure sembra quasi di dare fastidio quando si dice che sia vegetariano quest'ultimo problema adesso menzionato da entrambi comunque solitamente sorge quando non si conoscono le cose quindi uno si chiede perché devo abolire un alimento quando mi piace quando mi soddisfa perché allora visto e considerato come sul pacchetto di sigarette viene è stato scritto che nuoce alla salute e tutto quello che consegue perché non mettere a caratteri evidenti anche sugli involucri sulla confezione delle carni cosa può comportare il mangiare quel determinato alimento allora dal momento che io mi siedo a tavola con una persona può succedere che un domani dice oh mal di stomaco vado dal medico il medico dice guarda è un tumore è un inizio di tumore allora dice beh prendo coscienza meglio della cosa allora ce l'ho nel piatto ma cosa sta succedendo cioè una riflessione viene più all'interno della cosa e quindi non è una cosa semplice sarà lunga però senz'altro si salveranno vite sì il problema qual è che come le multinazionali del tabacco sono state diciamo convinte a fare la decisione a prendere la decisione di scrivere quello che hanno scritto dopo che hanno avuto quelle cause miliardarie che rischiavano di dare dei grossi problemi economici alla ditta sul campo dell'alimentazione ci vorrebbero quello che dicevamo prima ci vorrebbero delle diciamo degli enti politici decisionali che non fosse che potessero che sapessero scegliere in base semplicemente al confrontando quelle che sono le nozioni scientifiche e non invece facendosi condizionare dei poteri economici più forti il problema è quello fondamentalmente perché in questa società c'è ancora una preponderanza fortissima dei poteri economici forti che condizionano le scelte politiche ma non è una cittura che è la vita dell'uomo che può essere attività eh sì ma ma bisognerebbe che oltre a noi fossero convinti i decisori politici cosa che in questo momento a livello voglio dire adesso di altro genere ma guardiamo cosa succede a livello di di crisi finanziaria mondiale i paesi colpiti dalla crisi stanno offrendo stanno cercando le soluzioni per uscire dalla crisi adottando quello che che dicono coloro che la crisi hanno creato e che continuano a procrastinare quindi in questo momento in tutto il mondo c'è una mancanza assoluta di di politica intesa come discussione e presa e confronto sulla sulla sostanza della nostra società il problema io lo vedo così lo riassunto prima certo che non ha senso ma ma ad esempio allora noi nel campo della prevenzione noi abbiamo questo problema è il problema universale nel campo della prevenzione noi abbiamo esaminato questo aspetto ma qualsiasi problema grande che riguarda la prevenzione c'è c'è questo c'è questo aspetto c'è che a chi alla parte produttiva interessa di più il guadagno che si ricava che non la tutela della salute e purtroppo il discorso di base è questo qua è in tutti cioè io dico tra qua noi nessuno di noi io per primo siamo in questo momento in grado di rinunciare al cellulare ma io sono convinto che tra qualche anno e forse neanche tanto incomincieremo a pagare i danni della salute dall'uso del cellulare però se io dico queste cose sono noi abbiamo fatto facciamo riunioni facciamo scelte proposte per vedere come diminuire l'impatto delle onde elettromagnetiche nessuno ti ascolta a livello di decisione non c'è nessuno che questo è solo un esempio il campo della prevenzione è tutta così prevale l'interesse io ho scritto un articolo sul mio sito sulla sentenza Eternit la sentenza Eternit che giustamente ha fatto diciamo scalpore e ha suscitato interesse però se ne analizziamo globalmente dov'è il punto diciamo che ci lascia ci può lasciare perplessi che non aiuta purtroppo nel dire l'Eternit è successo così ma quante altre cose abbiamo che stiamo vivendo tutti i giorni e di cui non consideriamo le possibili conseguenze l'inquinamento dell'aria ogni anno in Europa si pensa che 500.000 persone muoiono d'inverno per colpa dell'inquinamento e più malattie bronchiali eccetera sono scelte che non si fanno perché non si fanno perché c'è più interesse intanto l'interesse farmacologico delle cure è spaventoso spaventoso noi ci muoviamo in un mondo dove siamo schiavi succubi dell'industria farmaceutica non sulle forme di cancro abbiamo detto prima ma a chi interesse davvero a ragionare sulle cause del cancro noi andiamo verso una società dove il 30 il 40 il 50% secondo gli anni e le stime che vengono fatti si morirà di cancro ma la morte di cancro la terapia del cancro fa guadagnare tantissimo a chi ci lavora da chi produce da chi produce le macchine per diagnosticarlo rapidamente da chi produce i farmaci e questo il tragico e quindi il concetto lì dello scrivere i pericoli della carne per carità se non si riesce ad avere poi una causa che come per il fumo non si arriverà perché sarebbe davvero invece forse ancora più impattante che non sul fumo perché la carne non ha il contenuto vizioso perché voi sapete che il fumo viene definito un'abitudine viziosa cioè un'abitudine che crea assuefazione quindi il meccanismo in piccolo è lo stesso meccanismo della droga quindi la carne che non ha questo meccanismo in sé fa sì che se si adottasse quel sistema lì certo che si avrebbero dei risultati però bisogna convincere qualcuno a proposito di progresso e di grossi guadagni stanno progettando un nuovo mega macello a Manerbio in provincia di Brescia dove prevedono di macellare 8000 animali al giorno chiedevo lei cosa ne pensa e se è possibile davvero che possano costruire una struttura del genere è un macello sul tipo dei macelli statunitensi allora la possibilità di costruirlo dipende da come guardiamo le cose nel senso che se ci saranno dei veterinari che l'autorizzano e quindi ci saranno delle la legge non impone un limite massimo di macellazione richiede solo che la struttura abbia determinate caratteristiche tra l'altro il discorso che facciamo prima delle delle multinazionali e del numero della produzione e dell'aumento della produzione è il sistema che spinge sull'aumentare la quantità va da sé che in questi macelli c'è non solo il problema della sofferenza degli animali perché catene di macellazione che prevedono appunto 8000 animali al giorno mettiamo pure 12 ore di macellazione però se fate il conto di quante quanti animali devono essere macellati al minuto naturalmente sono più linee il macello sarà di sicuro studiato per avere tre o quattro catene di macellazione tra l'altro penso lo sappiate tutti che le catene di montaggio degli automobili l'idea è nata a Ford vedendo i macelli di Sicago che erano i primi che avevano appunto la catena di macellazione da quel lato lì e il problema grosso è che sicuramente i pericoli per gli animali di soffrire sono esasperati perché quando c'è la velocità anche sto lavorando ad un testo che dovrebbe uscire sulla macellazione rituale ma in cui esamino anche la macellazione cosiddetta convenzionale anche perché il problema è sorto perché il libro di Safran Foer parla di problemi delle macellazioni normali convenzionali e io non l'ho letto ho letto dei miei amici e appunto parlando su queste cose il problema è proprio che Safran Foer descrive un sistema statunitense che è pieno di problemi anche nelle macellazioni convenzionali perché si macellano troppi animali e troppi insieme se io devo fare lo stordimento a un animale è un conto se devo fare uno stordimento a decine centinaia di animali solo per dire nel libro Fast Food Nation che hanno poi fatto anche un film l'autore racconta che nei macelli americani c'è una turnazione del personale del 400% significa che ogni addetto può resistere tre mesi poi va via perché? perché il lavoro è stressante è faticoso è pericoloso perché nel macello si lavora con delle strumenti che possono uccidere una persona come niente perché le seghe elettriche che tagliano le mannaie i coltelli sono tutte attrezzi che insomma che se non sono usati con attenzione se c'è stanchezza se c'è ripetitività dei gesti è automatica possono avere delle conseguenze e quindi sicuramente sono situazioni però siamo sempre lì il problema è che gli interessi economici spingono per avere queste strutture perché appunto macellare tanti animali sono le cosiddette economie di scala abbassa il costo per ogni animale macellato e quindi più macello più guadagno all'inizio ha detto che buonasera mi chiamo Dario ha detto che le mucche da latte sovente sono allevate all'aperto io recentemente così ho chiesto alla Granarolo appunto questo dato se hanno sulle bottiglie pubblicizzano che hanno 60.000 vacche per 1.000 allevatori mi pare ho chiesto questo dato se hanno delle mucche allevate all'aperto allo Stato Brado come si dice ovviamente non mi l'hanno riferito ho avuto un contatto telefonico mi hanno chiamato e chiedevo se lei ha dei dati appunto su questo tipo di allevamento in Italia o anche in regione o a qualche parte li sto cercando ecco grazie io dati precisi non ne ho però bisogna fare una specificazione sulle parole allora allo Stato Brado non esiste niente allo Stato Brado non esiste niente le mucche sono levate all'aperto solo cosiddette all'aperto solo perché c'è la convenienza economica e allora l'aperto significa che c'è una costruzione dove ci sono delle cucette aperte quindi gli animali non sono legati a catena e dove c'è quel piccolo spazio che abbiamo visto prima può esserci uno spazio comunque limitato per cui gli animali hanno possibilità di muoversi dal posto della cucetta a questo spazio esterno che però è limitato questo è l'allevamento all'aperto e perché serve perché in questo modo si può usare la sala di mongitura che adesso ormai è robotizzata perché c'è stata prima c'era la sala di mongitura e mongevamo mongeva l'allevatore poi c'è stata la sala di mongitura e sono arrivati gli indiani che sono molto ricercati perché loro per una vacca che deve partorire stanno lì anche senza farsi pagare perché loro hanno ancora questo rapporto con le vacche che conosciamo e adesso neanche più gli indiani che pur si accontentavano di un tozzo di pane sono stati vengono anche progressivamente esautorati perché ci sono i robot di mongitura nel quale con un po' di abitudine le vacche vanno da solo nella sala di mongitura vengono munte ed uscite e quindi una o due persone possono gestire stalle di 500 600 700 animali però quando si intende all'aperto allo stato brado forse stabilazione libera è quella che ho descritto all'aperto libera è questa qua stabilazione libera se in montagna c'era c'è il discorso che ci possono essere delle aziende dove persiste ancora supero quelle aziende piccole che tribunano ad andare avanti e sono quelle aziende che appunto gli animali possono essere liberati solitamente però in queste stalle il momento della mongitura devono poi rientrare nella stalla per essere munte io lo descrivo faccio un po' di pubblicità lo descrivo nei cuori con la coda descrivo appunto il modo di vita delle bucche che ho visto negli anni 50 a casa di mio zio perché e che adesso però persiste solo più in pochi 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 esempi proprio per motivi di interesse economico oi oi